Sarà a Roma a decidere le sorti del centrodestra alle prossime comunali di Benevento. Dopo la fumata grigia sul tavolo regionale sul nome di Rosetta d'Estasio, candidata civica ma in quota lega e appoggiata da Fratelli d'Italia ma avversata da Forza Italia, la palla è passata a livello nazionale. Nessuna bocciatura per la d'Estasio, secondo Federico Paolucci, esponente sannita di Fratelli d'Italia, ma un invito al dialogo. Non ci sono stati né veti né diktat, semplicemente c'è un dialogo in corso che sarà credo sicuramente concluso al tavolo nazionale e finalmente si chiuderà questa lunga ma necessariamente controversa partita del centrodestra. La miglior soluzione sarebbe stata tuttavia l'unità a livello locale da far solo ratificare a livello nazionale, ma così non è stato. In queste ore io stesso mi sono adoperato, così come il presidente provinciale del partito, Mimmo Matera, per cercare un dialogo in estremis, ma non perché non si troverà la quadra, la quadra si troverà domani, dopodomani, insomma a livello nazionale, ma perché noi siamo stati sempre convinti che un accordo locale che poi dovesse avere solo il sigillo nazionale sarebbe stato più opportuno a livello nazionale sarebbe stato più opportuno, ma perché non si troverà l'unità a livello nazionale, ma perché non si troverà l'unità a livello nazionale, ma perché non si troverà l'unità a livello nazionale,